La Lonely Planet mette le tende a Pesaro. L'indiscussa bibbia dei viaggiatori mondiali è pronta a realizzare una guida interamente dedicata alla provincia di Pesaro Urbino e alla riviera del San Bartolo. Ma non è tutto, l'Only Planet Italia porterà a Pesaro anche l'Ulisse Fest. Il Festival del Viaggio e del Viaggiatore sarà infatti una delle novità della prossima estate pesarese. Novità emerse dalla maratona di 8 ore degli stati generali del turismo tenutesi ai cantieri rossini. Novità anticipate da Daniele Vimini, vicesindaco di una Pesaro che inanella un doppio salto di qualità nella promozione del suo territorio. La notizia è che la Lonely Planet dedicherà una guida proprio a Pesaro Urbino e alla riviera del San Bartolo, segno dell'appettibilità di questa destinazione ma anche di quanto si voglia scommettere per promuoverla e lanciarla. Quindi una guida che sarà nella distribuzione ovviamente come tutte le altre guide, tra l'altro ero a Torino due giorni fa, il Salone del Libro e lo stand on the planet era assolutamente d'assalto dopo un anno difficile naturalmente da tantissimi appassionati del viaggio e della lettura, ma non solo la guida cartacea che sarebbe già un risultato importante ma la decisione, un lavoro fatto in questi mesi preparatorio assieme al Comune di Pesaro, di portare a Pesaro l'Ulisse Fest che è il Festival del Viaggio, il Festival del Viaggiatore, ideato da Lonely Planet che negli anni è stato a Bergamo, negli ultimi anni stabilmente a Rimini e che simbolicamente, significativamente decide di spostarsi a Pesaro. Sarà una quattro giorni veramente affascinante, nel periodo estivo verosimilmente luglio e adesso stiamo decidendo in quale settimana e sarà un'occasione intanto culturale perché saranno grandissimi concerti internazionali e di valore nazionale con la presenza di scrittori, giornalisti, protagonisti televisivi, tutto quello che insomma fa il racconto del viaggio e l'esperienza del viaggio. Ormai quasi due anni fa Lonely Planet indicò le marche sul podio delle mete da non perdere nel 2020, uno spot straordinario che si scontrò con un ostacolo ancor più straordinario come il Covid-19. Angelo Pittro, direttore di Lonely Planet Italia, era ieri al cantiere Rossini a ricordare che la pandemia non ha ammosciato la pil delle marche nell'immaginario dei viaggiatori. Ciò che abbiamo detto rimane nel senso che l'immaginario dei viaggiatori è rimasto sospeso in qualche modo, quindi ciò che avevamo sognato noi viaggiatori prima della pandemia adesso è tempo di realizzarlo. Quello che occorre fare è non fermarsi, appunto ripartire con delle strategie che sappiano valorizzare quanto fatto prima. Da parte nostra stiamo aggiornando la guida dedicata alle Marche, i nostri autori sono sul territorio in queste settimane. Quest'estate abbiamo pubblicato una prima serie di podcast dedicata a sei borghi, tra i più belli d'Italia nelle Marche e adesso raccogliendo uno stimolo della città di Pesaro stiamo progettando una guida interamente dedicata a Pesaro Urbino e alla riviera del San Bartolo.